Allora, mister Valmatti, è arrivato questo pareggio col Ponte Lungo, un pareggio sofferto e come dicevamo prima, domenica prossima con la Praese ci saranno delle defezioni importanti. Cosa ci puoi dire dopo questo pareggio? Sicuramente non siamo stati noi a soffrire oggi. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, sei in 11, sei in 10, sei in 9 e un risultato molto bugiardo oggi perché è stata veramente una sola squadra in campo. I ragazzi hanno preparato la settimana la partita in maniera ottimale, i risultati si sono visti e mi spiace solamente per un sacco di squalificati che avremo ma noi andremo a provare a vincere a Pra, nonostante tutti gli squalificati e mi dispiace per loro però noi siamo comunque una squadra attrezzata per superire anche a numerose assenze e sono sicuro che domenica i ragazzi lo dimostreranno. Bene, grazie mister e buona fortuna per il prossimo campionato. Grazie. Grazie. Grazie.